Il Comune di Cartoceto è virtuoso anche dal punto di vista della raccolta differenziata. Per coniare un termine dalle Olimpiadi, Cartoceto ha ottenuto la medaglia d'argento, nel senso che si è piazzato al secondo posto a livello provinciale per i comuni con più di 5.000 abitanti per percentuale di raccolta differenziata. Abbiamo ottenuto una percentuale del 75% che si avvicina di molto alla percentuale di comuni più virtuosi dell'80% e supera abbondantemente quella percentuale minima del 65% sopra la quale viene scata una riduzione dell'ecotassa. Ovviamente questi risultati non si raggiungerebbero se non ci fosse una fattiva collaborazione dei cittadini che ringrazio e con i quali condivido il risultato raggiunto.